Ci siamo. È vero, una piazza particolare, complicata, al tempo stesso affascinante, bella. Per dire, quando sono arrivato io, quando mi è venuta la proposta a Napoli, io sono partito con entusiasmo perché era una sfida difficile, però sappiamo anche chi è nel calcio, che non è facile fare calcio qui. E questo ti dà tanti stimoli, ti dà tanta forza. Dopo che ci sei stato e ce l'hai fatta, è anche un bagaglio particolare di esperienza e ti porterai per tutta la vita e per tutta la carriera che farai.